Sit-in dinanzi alla clinica Santa Barbara di Machitella Gela da parte di 9 operatori ausiliari destinatari di lettere di licenziamento nonostante un accordo sindacale risolente ad un anno addietro. Tre di loro hanno già ricevuto un provvedimento di mobilità che significa anticamera del licenziamento. Il sit-in è appoggiato da CGL e CISL. L'azienda ci dice che è stato decortato delle somme per quanto riguarda l'assessorato regionale sanità e quindi da questo è scaturato tutta una serie di provvedimenti e tentative che potrebbero arrivare al licenziamento di nome ausiliare. Noi stiamo tentando fino all'ultimo di arrivare a degli accordi bonari. Tra l'altro però veniamo da due incontri all'ufficio del lavoro che sono andati negativi. E quindi oggi siamo ritornati qui per ulteriori tentativi e ora ci siamo presi due giorni di riflessione perché tra l'altro ogni singolo lavoratore deve rivedere la propria posizione, gli anni di servizio e quindi come la posizione personale. Con questi due giorni di riflessione poi dobbiamo decidere o andare a causa a tutela dei lavoratori, quindi a defesa dei lavoratori, oppure si possa raggiungere un accordo all'ultimo momento. I licenziamenti sono stati adottati a causa dei tagli che hanno colpito il settore sanità. I lavoratori ritengono di subire una ingiustizia. Anni addietro erano stati assunti a tempo indeterminato. Il verbale diceva che l'azienda si impegnava a non fare nessuna assunzione nell'arco dei due anni. La riqualifica che chiedeva l'azienda era quella in os. Noi abbiamo provveduto all'iscrizione di questo corso e da lì, da maggio 2015, al momento in cui noi abbiamo portato l'iscrizione all'azienda, l'azienda ha provveduto a mandare le lettere di mobilità. Dopo novembre di un anno fa avevamo accettato un demanzionamento, pur mantenendo i livelli con la stessa categoria. Loro adducono un soprannumero, cosa che sulla pianta organica non esiste, perché la nostra categoria non è stata ancora soppressa. E loro fanno di tutto per eliminare la nostra categoria, cosa che secondo noi non può esistere perché secondo la convenzione noi siamo iscritti sulla pianta organica.